Welcome to the Quantum Gravity Channel Eccolo qui il puzzle completo Abbiamo nella prima colonna, vedete, Galileo, Kepler e Newton cioè la meccanica classica prima della prima teoria dei campi che è l'elettrodinamica con le equazioni di Maxwell Poi nella seconda colonna abbiamo la relatività ristretta che è già contenuta nell'elettrodinamica per certi versi le trasformazioni di Lorenz ma che andava estesa anche alla prima colonna E poi nell'ultima casella della seconda colonna abbiamo la relatività generale cioè la gravità classica la teoria di Newton della gravitazione ma combinata, se volete, con le equazioni di Maxwell con le idee di una teoria dei campi nella quale si possono propagare delle onde e questo porta all'interpretazione della trazione gravitazionale come dovuta alla curvatura dello spazio-tempo, alla geometria e in sostanza alla relatività generale E con le prime due colonne si completa la fisica classica cioè prequantistica quella nella quale si credeva un po' di aver capito tutto La fisica era deterministica il futuro segue univocamente dal passato c'è una corrispondenza uno a uno tra presente, passato e futuro Poi all'inizio del 1900 arrivano i quanti che sconvolgono tutto quanto e abbiamo messo la terza colonna completa perché questa costringe a reinterpretare tutto delle prime due Iniettando l'incertezza, l'indeterminazione nelle leggi della fisica non c'è più il determinismo non c'è più una corrispondenza uno a uno tra presente, passato e futuro ma ad ogni presente possono seguire molti futuri diversi ed ogni presente può venire da molti passati diversi Con la meccanica quantistica si deve reinterpretare tutto a partire da zero a partire dallo stesso oscillatore armonico di Galileo quindi la prima colonna non relativistica prima della relatività ristretta la meccanica newtoniana tutto quanto va reinterpretato e ovviamente poi bisogna anche inserire la relatività ristretta l'elettrodinamica abbiamo quindi l'elettrodinamica quantistica la prima casella nell'ultima colonna destra che è una teoria per certi versi semplice ma allo stesso tempo assolutamente non banale tanto nella versione classica Maxwell quanto nella sua versione quantistica e che quindi ci consente di fare un enorme numero di misure di precisione per testare tutte quante le nostre idee per esempio la diagrammatica il calcolo di quei diagrammi le divergenze l'eliminazione di quelle divergenze e questo permette di fare il passo successivo che è quello di capire le interazioni deboli e le interazioni forti continuando lungo lo stesso percorso lo stesso percorso diagrammatico lo stesso percorso della rinormalizzazione partendo dall'interazione a quattro fermioni di fermi e slargandola per imitare il più possibile l'elettrodinamica quantistica con qualche novità perché i bosoni intermedi sono massivi e questo è possibile soltanto se c'è un altro campo che è il campo di X l'ultima casella in basso a destra è la gravità quantistica la gravità quantistica dovrebbe reinterpretare quantisticamente quindi alla luce anche del principio di indeterminazione della multifocazione tra presente e passato e presente e futuro la gravità cioè la relatività generale allo stesso tempo dovrebbe essere collegata a tutti gli altri tasselli di questo puzzle e qui si pone quindi il problema un grosso punto di domanda e questo è il problema che si è posto di fronte a noi non per pretendere di completare chissà che cioè di completare la comprensione della natura ma di completare come ho spiegato l'altra volta quel pixel di comprensione della natura che sarebbe appunto soltanto un pixel all'interno di un'immagine estesissima fatta di un numero imprecisato di pixel perché tutto quanto quello che vi sto raccontando va verso la scelta dei problema facile non la possibilità di capire tutto ma la restrizione progressiva verso problemi specifici problemi che ci scegliamo noi siccome sto scrivendo il libro a partire dalle lezioni di questi video dell'anno scorso mi sono appunto imbattuto in quella lezione nella quale spiegavo che noi ci scegliamo i problemi facili ecco perché abbiamo potuto avanzare nonostante che il Logos sia sempre più in difficoltà e abbiamo tenuto nascosto questa difficoltà al resto del mondo ovviamente perché molte persone non vanno a raccontare in giro i fallimenti ma soltanto i successi non vanno a raccontare in giro quante strade sbagliate abbiamo dovuto percorrere per individuare quella giusta e il prezzo che abbiamo dovuto pagare cioè restringersi a problemi sempre più facili sempre più elementari la fisica delle particelle elementari perché tutto quanto quello che è un po' complesso bisogna trattarlo in maniera grossolana statistica ma senza una vera comprensione e poi ci siamo imbattuti anche nel problema spiegato l'altra volta e cioè che il nostro Logos nella teoria di campi quantistici oltre l'espansione diagrammatica perturbativa proprio non ci va rinuncia in partenza e quindi ci troviamo di fronte alla situazione nella quale sono finiti i problemi facili e quello che manca tutto il resto dell'immagine tranne quel pixel che siamo riusciti bene o male a coprire è fatto di problemi impossibili e quindi c'è questo out-out di fronte al nostro Logos sono finiti i problemi facili e tutti gli altri già sappiamo che sono impossibili e come spiegavo l'altra volta potrebbero non essere soltanto impossibili per noi e le nostre limitate capacità ma impossibili per chiunque per qualunque ammasso di atomi proprio perché non c'è nessuna ragione per la quale la natura si debba fare logicizzare da un ammasso di atomi creato dalla natura stessa qui e là in giro per l'universo quindi ci troviamo di fronte a questa situazione quella di cercare di completare un pixel di questa vastissima immagine possiamo dire guardando questa figura di avere più o meno non capito nel senso detto prima cioè scegliendoci i problemi facili non capito scegliendoci i problemi facili i nove decimi un po' come nel caso della omega meno non so se vi ricordate avevamo questo esempio del decupletto dei barioni nel quale come vi ho spiegato si era riusciti a scoprire i nove barioni delle prime tre righe mancava l'ultimo e quindi si è andati a botta sicura un mese circa una sola fotografia un solo evento è bastato così come era sicuro il bosone di Higgs perché vi ho detto che quando nel 2012 è stato scoperto il bosone di Higgs per noi non è stata neanche una notizia perché tutto quanto si reggeva sull'esistenza di quei bosoni intermedi e il bosone di Higgs e i bosoni intermedi erano stati visti decenni prima così come quando sono state scoperte le onde gravitazionali predette da Einstein un secolo prima non avevamo nessun dubbio e per noi non è stata una notizia seguendo il filone Maxwell è ovvio che ci devono essere delle onde e quindi le onde gravitazionali erano soltanto difficili da rivelare mentre le onde elettromagnetiche sono vita di tutti i giorni sono quelle onde che ci permettono di vedere quindi anche quella per noi non è stata una notizia la difficoltà ovviamente di rivelare queste predizioni fatte molti anni prima mezzo secolo nel caso del bosone di Higgs un secolo nel caso delle onde gravitazionali questo può fare notizia e voi sapete perfettamente che nella psicologia umana se qualcosa richiede fatica vuol dire che vale è un'associazione inconscia che noi facciamo sempre ma la razionalità ci diceva comunque che quelle non erano delle notizie avrebbero dovuto essere notizie il contrario la scoperta che non ci sono delle onde gravitazionali la scoperta che non c'è il bosone di Higgs e allora ci troviamo adesso di fronte a questo puzzle al puzzle che vediamo qui e la domanda è come continuare perché abbiamo spiegato anche che il modello standard funziona troppo bene funziona bene perché abbiamo chiuso un puzzle come per esempio in quel decupletto una volta identificato quel decupletto bisogna cercare qualcos'altro bisogna andare oltre e può non esserci nessun indizio può non esserci nessun altro puzzle da completare per esempio nel caso della gravità quantistica che indizi abbiamo su cosa possa essere praticamente nessuno bisogna anche tenere presente una cosa che finora abbiamo potuto fare degli esperimenti raccogliere dati anche se sempre meno come vi dicevo la più grande messe di dati viene dall'elettrodinamica classica nelle distanze nostre e più piccole e dalla gravità la relatività generale alle distanze astronomiche ma anche l'elettrodinamica quantistica ha fornito tantissimi dati tanti dati il modello standard sempre meno pensate appunto alla fatica di scoprire il bosone di X che è stato predetto 50 anni prima e nel caso della gravità che cosa abbiamo? di dati sperimentali ovviamente non ne abbiamo potremmo averne in futuro dalla cosmologia primordiale ma si tratterebbe se no di una misura e poi chissà quanto dovremmo aspettare per la prossima è ovvio che non si può costruire un puzzle ex novo senza nessun dato senza nessuna idea di ciò che possa essere mentre si può completare un decupletto quando si conoscono le prime nove caselle si tratta di indovinare la decima bene per darvi un'idea delle difficoltà adesso vi do due informazioni noi siamo arrivati al CERN a fare esperimenti con il modello standard e una certa energia diciamo 1000 GeV per chissà che cosa vuol dire bene i primi dati che potremmo ricavare in esperimenti analoghi per la gravità quantistica ce li possiamo aspettare a energie un miliardo di volte più alte un miliardo di volte più alte non è pensabile che saremo mai in grado di fare quel tipo di esperimenti in laboratorio per quanto riguarda invece la teoria vi ho spiegato l'altra volta che nella scelta dei problemi facili dobbiamo ridurci accontentarci a parlare di diagrammatica quindi di correzioni perturbative come Galileo fa con il pendolo semplice individua oscillatore armonico piccole oscillazioni e poi eventualmente studia delle oscillazioni più ampie come correzione successiva questa è l'idea l'idea delle approssimazioni successive e vi ho anche spiegato che ogni passo successivo consiste nel calcolo di diagrammi difficili i diagrammi sono diagrammi ad albero per quella che è la parte classica poi ci sono i diagrammi a loop quelli più difficili per quella che è la parte quantistica e ci sono diagrammi con un loop con due con tre queste sono le approssimazioni successive se la teoria è debolmente accoppiata andando avanti abbiamo correzioni sempre più piccole quindi ci possiamo accontentare dei primi termini bene nel caso della gravità la gravità di Einstein vi posso dire che il calcolo del primo termine della prima correzione si può fare in qualche settimana e questo lo abbiamo fatto più o meno tutti il calcolo si dice a due loop cioè diagrammi con due curve chiuse per esempio questo che ha due curve chiuse per la gravità quantistica è stato fatto finora soltanto da tre persone i primi due Gorov e Sagnotti l'hanno fatto all'inizio degli anni 80 e hanno impiegato due anni come lo so perché l'ho chiesto a Sagnotti che è un professore della scuola normale che conosco molto bene Gorov era un suo studente e non ha più fatto fisica probabilmente dopo quel lavoro mi ha spiegato che ha impiegato due anni per fare quel calcolo che poi è stato ripetuto soltanto molti anni dopo da un olandese tale Van de Ven che ha scritto un articolo peraltro molto dettagliato non lo conosco personalmente non gli ho chiesto quanto tempo ha impiegato per rifare il calcolo ma è probabile a leggere l'articolo che ci abbia impiegato allo stesso tempo la riproducibilità di questo tipo di conoscenza comincia a diventare un problema come vedete i due calcoli fatti a distanza di anni hanno dato gli stessi risultati quindi ci possiamo fidare però se dobbiamo andare avanti così capite benissimo che possiamo dire addio a quello che ci circonda in cui basta che apriamo gli occhi e pum abbiamo una fotografia con una miriade di dati di quello che abbiamo di fronte non è così laggiù tra l'altro quel calcolo di Goroff-Sagnotti ha dimostrato proprio che la teoria della gravità quantistica la relatività generale non è rinormalizzabile vi ho spiegato che ogni diagramma porta a delle divergenze queste divergenze le si classificano mettendo un taglio troncando in qualche modo una somma e quindi lavorando con un numero grande che ci si porta in giro fino alla fine fino all'arrivo alla predizione fisica sperando che in quella sommando vari diagrammi e facendo delle operazioni semplici di ridefinizione delle quantità in gioco si possa cancellare o si cancelle da sopra bene nel caso della gravità Goroff-Sagnotti hanno mostrato che la relatività generale da sola non si chiude in un certo senso in questa procedura di rimozione delle divergenze ma si genera un nuovo termine un nuovo termine che io chiamo appunto termine di Goroff-Sagnotti il quale poi ne genererebbe ma non si è mai riusciti a fare il calcolo oltre quel calcolo di Goroff-Sagnotti ripetuto da Van de Ven quindi non si può nemmeno dire ma diciamo che di miracoli non ne avvengono mai nella teoria di campi quantistici per cui vale sempre il principio che se qualcosa può andare storto lo farà oltre a quel termine insomma se ne genereranno altri e poi altri ancora e poi altri ancora e poi altri ancora si dice che sia una teoria non rinormalizzabile cioè una teoria nella quale non si può rimuovere le divergenze chiudendo il tutto la procedura con pochi termini quelli di partenza ma se ne generano di nuove ogni volta che si fa il calcolo quindi a un loop niente in realtà non si genera niente di nuovo questo è il motivo per cui c'erano delle false speranze che ci fosse qualche miracolo qualcosa di non capito sotto e il calcolo di Goroff-Sagnotti ha mostrato appunto che di miracoli non ce ne sono perché si genera un nuovo termine a due loop poi un altro a tre altri plurale a quattro cinque sei così via quindi cosa vuol dire tanti altri termini vuol dire che la teoria finale supposto che esista dovrà essere parametrizzata da un numero infinito di diverse costanti d'accoppiamento non una costante d'accoppiamento come la carica dell'elettrone tutto quello che parametrizza l'elettrodinamica quantistica nella sua ricchezza e nella sua semplicità non solo la costante di Newton come nella gravitazione universale non solo la costante di Newton e un'altra costante che si chiama costante cosmologica nella teoria di Einstein la relatività generale ma qui un'infinità di altri parametri fissare infiniti parametri infinite costanti arbitrarie vuol dire fare infinite misure quindi questo tipo di teoria può avere un'utilità ma è come dire che il nostro logos comincia a vacillare fin da subito senza neanche riuscire a completare quel solo pixel quel solo pixel di quella immensa immagine quindi se la gravità quantistica ha questo tipo di problemi possiamo chiuderla qui mentre invece potevamo sperare di completare quel pixel completando questo puzzle facendo quindi uno sforzo enorme perché vi ho dato idea con questa tempistica con le energie che dovremmo raggiungere sperimentalmente del tipo di sforzo che è richiesto per fare un minimo passo avanti un minimo passo avanti che per noi può essere tantissimo perché di nuovo più una cosa è difficile più valore associamo sempre per quegli istinti che ci inducono a comportarci così ma che al cospetto della natura è poca cosa tante persone quindi si sono avventurate nel cercare di convincere tutta quanta la comunità scientifica che no la gravità non la si può studiare ripercorrendo le strade provate fino ad allora bisogna cambiare tutto queste persone si chiamano teorici delle stringhe coloro che hanno studiato la loop quantum gravity coloro che credevano alla unificazione alla grande unificazione alla supersimetria alla corrispondenza di SCFT all'olografia quelli che proponevano che il mondo fosse un ologramma vedete un ologramma in questa tabella vedete una stringa vedete un loop di quelli della gravità loop che non ha niente a che vedere con il loop dei diagrammi non c'è niente di tutto questo queste erano persone che covavano di risentimento da decenni perché da decenni erano state calpestate e calpestate dai risultati a partire dalla meccanica quantistica persone che anelano sempre all'ordine al determinismo alla logica all'ogos alla certezza e che ovviamente con l'introduzione del principio di indeterminazione dell'incertezza hanno visto vacillare le loro puerili certezze e la loro puerile ricerca di una figura materna vi faccio vedere questo libro che ha avuto un grande successo si intitola l'universo elegante super stringhe dimensioni nascoste e la ricerca della teoria ultima questo è un libro scritto da Brian Green che era uno stringhista quando io stavo facendo il primo postdoc che poi ha abbandonato la fisica la ricerca per fare divulgazione e in questo libro che non ho letto perché non ce la faccio voi vedrete raccontata la passione con la quale lui assieme a dei colleghi hanno fatto la scoperta che ha fatto nel mondo delle stringhe scoperte che lasciano il tempo che trovano ovviamente ma vedrete come vi prende per l'amigdala al solito le passioni l'umanizzazione della storia senza mai arrivare al punto senza mai raccontare ciò che è ma la cosa importante dal titolo è che vedete il suo credo l'universo elegante questa voglia di credere che ci sia qualcosa che abbia un senso che sia elegante questa trasposizione insomma da parte di persone mai svezzate della figura materna a cui evidentemente ancora anelano da adulti tra virgolette in qualcosa che sia per loro soddisfacente dal punto di vista dell'amigdala sempre delle emozioni imbarba la razionalità sempre con lo stesso meccanismo della rocco cerebrale nel quale tra amigdala e ragione vince l'amigdala che fa da filtro per cui la ragione si deve accontentare di fabbricare argomenti artificiali al servizio soggiogata quindi delle emozioni oppure sapete benissimo che in tutti quanti gli altri libri divulgativi si indugia sempre nel racconto di aspetti umani nella storia delle scoperte senza mai spiegarvi che cosa sono e il loro significato vi si prende per l'amigdala sempre sempre costantemente perché così funziona l'essere umano potete credere che queste persone lo facciano per ingannarvi lo fanno per ingannarvi nel senso che vi ingannano ma sono le prime ad autoingannarsi perché così funzioniamo così funziona e così di fronte a quel puzzle queste persone sono le prime che hanno detto bisogna cambiare tutto perché non c'era niente in questo puzzle che soddisfacesse i loro aneliti l'incertezza? assolutamente no lo stesso Einstein non ha mai creduto che Dio potesse giocare i dadi era tutta una teoria provvisoria quella della meccanica quantistica le divergenze per carità sono spazzatura da nascondere sotto il tappeto quindi per loro bisognava buttare via tutto e ripeto erano decenni che covavano nel risentimento per riportare in auge le loro passioni più puerili e avevo anche detto che negli anni 60 c'era stato un decennio buttato praticamente nell'inseguimento di chimerici i sogni sempre di poter arrivare alla famosa teoria del tutto in quel caso la matrice S a partire dal nulla a partire cioè dal logos bene per questo motivo nel momento in cui i dati sono venuti a mancare e ripeto nella gravità quantistica noi non abbiamo nessun dato nel momento in cui non c'è nessun puzzle da completare il sottopuzzle questo è il puzzle più grande diciamo così ma ciascuna di questa casella è stata un puzzle da sé l'abbiamo visto nei video precedenti la casella della gravità quantistica è un puzzle vuoto in cui non c'è nessun elemento e quindi hanno avuto buon gioco queste persone nell'inserirsi per cercare di fare piazza pulita e ritornare indietro all'oscurantismo precedente annullando avanzamenti di più di un secolo per ritornare alla fine del 1800 a quelle idee c'era una sola possibilità che è quella che ho percorso che fosse sufficiente il puzzle più grande è vero non c'è nessun puzzle nessun elemento di quel sottopuzzle che è la casella in basso a destra la gravità quantistica non abbiamo neanche un dato sperimentale cosa che come ho detto ha aperto la strada ai venditori ai venditori di patate ai ricercatori di click di clickbait agli scrittori di libri che prendono il lettore per l'amigdala essendo loro i primi ad essere presi per l'amigdala da questo scherzo cioè da come natura ci ha fatti li ha fatti ma c'era un'altra possibilità l'unica l'unica speranza perché io mi sono reso conto di queste cose qui dal primo momento in cui mi sono messo a fare fisica e ne ho parlato con alcuni colleghi perché sono poche pochissime le persone al mondo i fisici che discutono di queste cose gli altri sono opportunisti che hanno come unico scopo quello di occupare un posto io ho visto da quando ho cominciato a fare ricerca non sapete quante persone passarmi davanti e fare carriera con i tappeti rossi stese ai loro piedi pur di dire le solite cose pur di dire e ripetere quello che passava il convento quando sono stato a fare ricerca al CERN verso la fine del 1900 gli ultimi due anni del secolo scorso c'era un fisico tedesco un fenomenologo quindi qualcuno che si occupava di studio di modelli modello standard studiava il modello standard il modello che ha avuto più successo e ci raccontava a me un mio collega di Roma ridendo è quando facevo il modello standard non mi si filava nessuno adesso invece è un invito dietro l'altro andare a conferenze parlare carriera assicurata adesso cosa? adesso che faceva che cosa? parlando con delle persone lì al CERN aveva avuto la possibilità di fare il modello standard super simmetrico e da allora tutte le porte gli si erano aperte voi non sapete quanti fondi ho visto dare a chi ripeteva sempre la solita cosa ovviamente se uno vuole fare fisica è meglio che si procuri dei fondi da solo oggi perché non esiste possibilità più di accedere io come ho già spiegato e alcune altre persone siamo riusciti ad entrare per il rotto della cuffia prima che questo sistema che riesce a radiografare le intenzioni le cattive intenzioni delle persone che addirittura vogliono fare scienze invece che vendersi al miglior offerente fin da piccole e le sputa fuori tornando a noi quindi c'era una sola possibilità io mi sono posto di fronte a questo problema dicendo se io faccio la teoria delle stringhe ero ad Harvard nel gruppo della teoria delle stringhe quindi se io faccio la teoria delle stringhe certo avrò le porte aperte però di progresso non ne potrò fare e comunque essendo giovane e non sapendo tutte le cose che adesso vi racconto ho provato anche quella ho provato a studiare la teoria delle stringhe poi ho dovuto rassegnarmi seguendo l'insegnamento di quel libro famoso che si intitola Va dove ti porta lo stomaco forse non lo ricordo con precisione diciamo che è il titolo che avrei dato io a un libro Va dove ti porta lo stomaco e lo stomaco si rifiutava quindi questa è la realtà che avevo di fronte o seguire quella strada che prometteva carriera oppure l'unica altra possibilità era che ci fosse l'elemento per continuare nel puzzle grande e cioè che questa figura che vi trovate di fronte agli occhi siano come nel caso della omega meno i nove decimi fatti di un puzzle di cui era richiesto soltanto l'ultimo decimo l'ultimo miglio e così è cominciata l'avventura che descriveremo nell'ultimo video della serie sperabilmente che sarà il prossimo e che si intitolerà per forza di cose lago nel pagliaio vi voglio leggere alcuni passi da un articolo l'ultimo che ho pubblicato che è già stato pubblicato da una rivista scritto in inglese ovviamente quindi vi faccio la traduzione un po' aggiustata in italiano perché in questo articolo presento proprio la mia filosofia e il mio approccio dice Galileo nel saggiatore la filosofia naturale è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi io dico l'universo ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto egli è scritto in lingua matematica i caratteri sono triangoli cerchi e altre figure geometriche senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parola senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto dai tempi di Galileo il linguaggio del libro della natura si è notevolmente evoluto per qualche secolo il potere del calcolo infinitesimale ci ha dato l'illusione del continuo e del determinismo poi inaspettatamente la meccanica quantistica ha rivoluzionato tutto introducendo l'indeterminazione nelle leggi della fisica la matematica ha fatto spazio con successo ai nuovi concetti ma diversi problemi sono rimasti irrisolti o almeno così è sembrato a noi con l'avvento della teoria quantistica dei campi la rinormalizzazione le sfide della teoria perturbativa e l'impossibilità di andare oltre l'espansione perturbativa in modo sistematico la matematizzazione dei fenomeni fisici è diventata più impegnativa per quanto ne sappiamo oggi il linguaggio parlato dalle particelle elementari è diagrammatico e di conseguenza perturbativo oltre a ciò abbiamo indizi ma nessuna formulazione soddisfacente un linguaggio non perturbativo potrebbe anche non esistere a rigore non c'è motivo per cui la natura debba essere matematizzabile da una delle specie viventi che essa genera nell'universo in fin dei conti noi siamo soltanto a massi di atomi e la nostra logica è una rete di connessioni cerebrali tra percezioni memorizzate principalmente acustiche che sono le nostre parole da cui la parola il verbo o logos modellate dall'esperienza per mezzo della ripetitività la tradizione e l'abitudine mentale alla Jung piuttosto che avere un'esistenza in sé sebbene l'idea di una logica esistente prima della natura sia una di quelle che difficilmente muoiono e periodicamente ritornano sotto diverse fascinazioni in realtà la nostra grandezza le scale relative coinvolte nei fenomeni dell'universo suggeriscono che la logicizzazione della natura sia molto probabilmente impossibile oltre certi limiti la domanda è se abbiamo raggiunto il nostro o se c'è ancora spazio per migliorare la sfida della gravità quantistica ha indotto molte persone a rimettere tutto in discussione questa volta in modo gratuito e a suggerire approcci completamente nuovi oltre la teoria dei campi quantistici nonostante la mancanza di dati che suggerissero un tale sconvolgimento probabilmente il presupposto di fondo era ancora una volta che la logica non è solo uno strumento un linguaggio ma preesiste la natura in principio era il verbo quindi noi esseri umani dotati di parola dovremmo essere in grado di cogliere la teoria di qualcosa o anche del tutto senza o con pochissimi dati sperimentali elucubrando magari scommettendo su una nostra connessione speciale con le divinità o seguendo gusti personali e sociali la teoria delle stringhe è così bella che non può che essere vera è la diagrammatica bellezza e se invece la gravità quantistica fosse un passo dal modello standard solo un pezzo mancante del puzzle indovinabile abbastanza facilmente l'approccio diagrammatico ha funzionato molto bene finora per le particelle elementari e il modello standard e nonostante decenni di sforzi c'è ancora molto da capire su di esso e sui principi base su cui è fondato che sono la località l'unitarietà e la rinormalizzabilità la teoria quantistica di campi non smette mai di sorprendere per così dire poi l'articolo va avanti sulla particella fake ne parleremo la prossima volta saltiamo direttamente alle conclusioni in conclusione la diagrammatica della particella fake offre alla teoria quantistica di campi la possibilità di superare i propri limiti e offrire soluzioni a molti problemi aperti senza abbandonare i regimi della teoria delle perturbazioni e senza richiedere atti di fede o avventurarsi in approcci incerti come la teoria delle stringhe la look quantum gravity e l'olografia o corrispondenza di scft la strada tracciata dalle particelle puramente virtuali supera i competitori in termini di calcolabilità predittività e falsificabilità ad esempio le sue predizioni precise sulla cosmologia inflazionaria lasciano poco spazio ad aggiustamenti artificiali nel caso di discrepanze con i dati invece la principale debolezza della teoria delle stringhe è la sua mancanza di predittività a causa del landscape 10 alla 500 falsi vuoti o giù di lì la gravità quantistica a lupo è estremamente impegnativa dal punto di vista matematico quando al contrario la diagrammatica delle particelle fake è un'estensione relativamente semplice della nota diagrammatica delle particelle fisiche la corrispondenza di scft ha un lato di teoria di campi quantistici ma è fortemente accoppiata il che richiede di usare metodi non perturbativi per lo più basati su congetture una discussione a parte merita l'idea di salvezza sintotica che è teoria di campi quantistici anche quella tuttavia richiede metodi non perturbativi per trattare i punti fissi ultravioletti interagenti come vedete non mi faccio problemi a criticare tutti quanti perché questo assume tutta quanta la fisica teorica degli ultimi decenni nei miei articoli primo perché non sono ricattabile secondo perché non ho bisogno né di citazioni né di like né di soldi chiedetevi quante persone si possano permettere qualcosa del genere nel mondo siamo pochissimi ne conosco qualcun'altra che magari non è attiva come me nella divulgazione nel cercare di contattare il resto del mondo ma ovviamente non sono da solo si tratta però di persone che come vi ho spiegato prima sarebbero state intercettate subito se il sistema che oggi è in vigore fosse stato in vigore anche quando noi siamo entrati siamo riusciti quindi ad entrare oggi se qualcuno vuole fare ricerca e non vendere patate deve autofinanziarsi deve trovare metodi di finanziamento indipendenti sostanzialmente oppure deve essere già entrato nel qual caso può anche permettersi di percorrere strade sue il punto è che non riesce più a entrare nessuno di nuovo quindi quelli che sono già entrati si esauriranno tra un certo tempo volevo sottolineare un paio di cose su quello che c'è scritto ho ricordato questa frase la teoria delle stringhe è così bella che non può che essere vera questo è il mantra dei teorici delle stringhe l'ho già ricordato in qualche altro video fa il paio anche con quel libro di Brian Green che abbiamo visto prima l'universo elegante per la cronaca per chi conosce la matematica della teoria delle stringhe è qualcosa che fa letteralmente polli non c'è nessuna bellezza lì dentro non possono neanche vantare una bellezza matematica è veramente un giudizio perverso di bellezza che è difficile anche qualificare in quanto è una teoria dal punto di vista matematico estremamente orrida volevo fare un altro commento prima di chiudere su coloro che credono nel logos che possa preesistere alla natura in principio era il verbo quindi l'idea platonica e allora lancio una sfida ai platonici ai cartesiani a quelli del cogito ai kantiani a quelli dei giudizi a priori quindi se c'è o se ci fosse qualcosa nel logos che può cogliere a priori avanti cimentatevi abbiamo una casella aperta in quel puzzle dite la vostra diteci che cosa c'è dopo fateci vedere quanto è potente il vostro logos il feticio a cui credete la superstizione la vostra superstizione quella che vi fa sentire ganzi invece di blatterare sempre di senso di origine del mondo di inizio di fine di scopi di coscienza di logica di luce di illuminazione di logos invece che giocare sempre in casa vostra intortando il discorso fino a prendere l'interlocutore per la mitala cimentatevi in qualcosa che la natura può smentire non qualcosa che potete sempre intortare grazie della partecipazione e mi raccomando di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di abilitare le notifiche in modo da restare costantemente aggiornati sui nuovi video e le nuove iniziative vi raccomando anche i due libri dalla fisica alla vita viaggio nell'infinitamente piccolo ritorno e l'involuzione del pensiero scientifico come la civiltà perde conoscenza che sono molto utili per seguire le problematiche che affrontiamo in questo canale se potete spargete la voce sui social e se avete delle domande o dei suggerimenti lasciateli nei commenti alla prossima grazie a tutti grazie a tutti